Anche una più serena conclusione della legislatura a Conte, che peraltro proprio i 5 Stelle hanno espresso a Palazzo Chigi. No, io non penso che sia diventato adulto e lo dimostrano anche a certe germinelle che stanno facendo, tipo appunto dallo streaming a nascondere anche i voti. Penso che sia cambiato, stia cambiando moltissimo, sta trasformandosi in un partito, anzi forse lo è già, un partito con le sue correnti, con le sue divisioni e comunque completamente snaturato. Ma questo non da oggi, è snaturato almeno da giugno dell'anno scorso, quando fece volta faccia in Europa votando la Funderland, lucrandone anche una buona rendita di posizione. Ma di quanto sia cambiato questo partito? Lo spiega benissimo la situazione di Batuanelli, cioè un partito che si riempie la bocca di Benetton, tagliamo la testa di Benetton, mandiamo via i Benetton, ha un ministro che ha fatto incontri segreti con il principale responsabile ritenuto della gestione di autostrade, cioè con Castellucci, quando Castellucci era indagato e non più neanche a Didi Autostrade e invece Batuanelli lo incontrava per cercare di avere una collaborazione su Alitalia. Ora voi capite che se questo fosse successo due anni fa, Batuanelli non avrebbe più neanche potuto presentarsi in piazza, invece è ancora il governo e fa tranquillamente gli stati generali, cioè sono cambiati completamente, sono diventati un partito e deve diventare un partito particolarmente oppure. Geroso, no, no.